Stazione di servizio, Six Petroleum di Agnello De Marinis, in via Santa Maria delle Grazie 140, Nocera Superiore. Gli studenti della terza H del liceo scientifico Andrea Genoino sono i protagonisti di Cava dei Tirreni, una città da vivere. Video emozionale che racconta Cava ai tempi del Covid. Il tutto attraverso gli occhi dei giovani, che guardano con fiducia al futuro e alla rinascita, ripensando all'esempio della bazia benedettina e dei suoi monaci. Il millenario Cenobio, infatti, nonostante gli eventi drammatici che ha visto nel corso della sua storia, come recita il testo originale del cortometraggio, è ancora lì più bello che mai. Il video rientra nell'ambito del PCTO Ambiente e Territorio, curato da Viceversa per un progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Salerno e che ha visto partner anche il Comune Metelliano. Le riprese, realizzate in 4K, sono state girate dal tutor esterno Roberto Cicco, mentre il video editing è stato curato da Gianluca Cicco. La professoressa Emilia Giordano, invece, ha svolto la mansione di tutor interno. Cava dei Tirreni, una città da vivere, è disponibile sul canale YouTube dell'Istituto, retto dalla dirigente scolastica Stefania Lombardi.